ah disse il capitano conte garan se me la ricordo quella cena dell'epifania durante la guerra allora ero maresciallo degli usseri e da quindici giorni facevo servizio di pattuglia di fronte a un posto di avanguardia tedesca il giorno prima avevamo caricato alcuni urani e perduto tre uomini fra i quali il povero rodeville ricordate vero joseph de rodeville dunque quel giorno il mio capitano mi ordinò di prendere dieci soldati e di andare a occupare e a presidiare tutta la notte il villaggio di port rhein dove c'erano stati cinque scontri in tre settimane in quel nido di vespe non rimanevano in piedi venti case ne c'era più di una dozzina d'abitanti così presi dieci uomini e partì verso le sedici alle diciassette in piena oscurità raggiungemmo i primi muri di port rhein qui feci fermare e ordinai a marcia sapete pier de marcia che poi ha sposato la piccola martella vlaine figlia del marchese de martella vlaine di entrare da solo nel villaggio e di portarmi notizie avevo preso con me esclusivamente dei volontari tutti i ragazzi di buona famiglia a piacere in servizio non dover dare del tu a degli zoticoni marcia era in gamba come lui solo furbo come una volpe agile come una serpe sapeva stanare i prussiani come il cane la lepre trovava da mangiare dove senza di lui saremmo morti di fame e otteneva da chiunque informazioni sicure con un'abilità da non credere dieci minuti dopo era di ritorno va tutto bene disse nessun prussiano è passato di qui da tre giorni però questo paese è triste ho parlato con una suora che cura quattro o cinque ammalati in un convento abbandonato ordinai ad andare avanti e ci inoltrammo nella via principale si scolgevano vagamente a destra e a sinistra case senza tetto appena visibili nella notte profonda di tanto in tanto una luce brillava dietro un vetro una famiglia era rimasta per custodire la propria casa ancora in piedi una famiglia di coraggiosi o di poveri la pioggia cominciava a cadere una pioggia a minuto fredda che ci gelava prima di bagnarsi solo posandosi sui nostri cappotti i cavalli inzampavano nelle pietre nelle travi nei mobili Marcià ci guidava a piedi precedendoci e trascinando il suo cavallo per la briglia dove ci porti? gli domandai ho un alloggio, rispose, è buono e si trasferì ben presto davanti a una piccola casa borghese rimasta intatta e chiusa che dava sulla via con un giardino sul di dietro con un grosso sasso raccolto presso il cancello Marcià fece saltare la serratura salì la scalinata, sfondò la porta d'ingresso a calci e spallate accese un pezzetto di candela che teneva sempre in tasca e ci precedette in un gradevole e comodo appartamento di un ricco borghese guidandoci con sicurezza ammirabile quasi avesse sempre vissuto in quella casa che vedeva per la prima volta due uomini rimasti fuori custodivano i cavalli Marcià disse al grosso ponderel che lo seguiva le scuderie devono essere a sinistra, le ho viste entrando portaci le bestie che non ci servono poi volgendosi a me dà degli ordini, perdinci mi sballordiva sempre quel giovanotto risposi ridendo vado a piazzare le sentinelle nei dintorni del paese ti troverò qui mi chiese quanti uomini prendi cinque, gli altri li sostituiranno alle dieci di sera bene, lasciamo ne quattro per fare le provviste cucinare e apparecchiare la tavola troverò dove è nascosto il vino me ne andai in ricognizione per le strade deserte fino alla pianura per piazzarvi le mie sentinelle una mezz'ora dopo ero di ritorno trovai Marcià sprofondato in una grande poltrona Voltaire a cui aveva tolto la fodera per piacere del lusso, diceva lui si riscaldava i piedi davanti al fuoco fumando un ottimo sigaro il cui profumo riempiva la stanza era solo il gomito appoggiato al bracciolo della poltrona la testa fra le spalle le guance rose l'occhio brillante l'aria felice nella stanza attigua sentivo un rumore di vasellame Marcià mi disse sorridendo beatamente benissimo ho trovato il bordone, il pollaio lo champagne sotto i gradini della scala l'acqua vite 50 bottiglie di prima qualità nell'orto, sotto un pero che visto alla luce della lanterna non mi è sembrato diritto di solido abbiamo due polli un'occa, un'anitra, tre piccioni e un merlo preso in una gabbia nient'altro che volatili, come vedi tutto ciò sta cuocendo in questo momento è un paese meraviglioso questo mi ero seduto di fronte a lui la fiamma del camino mi arrostiva il naso e le guance dove hai trovato la legna? chiesi legna magnifica? rispose lui vettura padronale fatta a pezzi è la pittura che dà questa fiammata un pancio d'essenza e di vernice io ridevo, tanto lo trovavo spiritoso quell'animale e pensare che era il giorno dell'epifania disse, ho fatto mettere una fava nell'oca ma niente regina, è seccante e io ripetei come un eco è seccante? ma cosa vuoi che ci faccia? che tu ne trovi per bacco di che? di donne donne, tu sei matto ho ben trovato io l'acquavite sotto un pero e lo champagne sotto i gradini della scala e non c'era niente che potesse guidarmi mentre per te una gonna è un indizio sicuro cerca, vecchio mio aveva una voce così grave, così seria così convinta che non capivo più se scherzasse vediamo, Marchè, risposi tu stai scherzando io non scherzo mai in servizio ma dove diavolo vuoi che io trovi? delle donne dove vuoi? ce ne saranno rimaste due o tre nel paese scovale, portale mi alzai faceva troppo caldo davanti al fuoco Marchè riprese vuoi un'idea? sì va a trovare il parruco il parruco? per cosa? invitalo a cena e pregalo di condurre una donna il parruco una donna ah 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 Marchè con una straordinaria gravità riprese io non rido va a trovare il parruco raccontagli la nostra situazione deve annoiarsi tremendamente e verrà ma digli che ci occorre una donna almeno una donna come si deve ben inteso poiché siamo tutti uomini di mondo lui deve conoscere tutte le sue parrucchiane sulla punta delle dita se ce n'è una possibile per noi e se tu ci saprai fare ce la indicherà e via Marchè ma che cosa ti viene in mente? mio caro Garain puoi farlo benissimo e sarà anche molto divertente sappiamo vivere per bacco e saremo di una perfetta distinzione d'uno chic estremo di allabate i nostri nomi fallo ridere inteneriscilo seducilo e convincilo no è impossibile avvicinò la sua poltrona e siccome conosceva i miei lati deboli quello sciagurato continuò pensa dunque che sarà un'impresa difficile ma tanto più divertente da raccontare se ne parlerai in tutto l'esercito e ti farai una splendida reputazione io agitavo tentato però dall'avventura via mio caro Garain sei il capo di distaccamento solo tu puoi visitare il capo della chiesa in questo paese te ne prego vacci finita la guerra io racconterò il fatto in versi nella rivide du monde te lo prometto devi pure qualche cosa ai tuoi uomini da un mese non fai che farli marciare mi alzai domandando dov'è la parrocchia? prendi la seconda strada a sinistra all'estremità troverai un viale e alla fine del viale la chiesa la parrocchia è lì a fianco uscì e mi gridò digli il menù per far divenire appetito trovai senza fatica la casa del sacerdote a fianco di una grande e brutta chiesa di mattoni picchiai coi pugni contro la porta che non aveva né campanello né battente ed una voce forte domandò dall'interno chi è? il maresciallo degli Ussari intesi il rumore del catenaccio e della chiave che girava e mi trovai di fronte un prate alto con una gran pancia un torace da lottatore le mani enormi che spuntavano dalle maniche rimboccate un colorito rosso ed un'aria di brav'uomo feci il saluto militare buongiorno signor parroco aveva pensato a una sorpresa un'imboscata di vagabondi e sorridendo mi rispose buongiorno amico mio entrate lo seguì in una cameretta dal pavimento rosso dove bruciava un magro fuocherello ben diverso dal bracere di Marchand mi indicò una sedia e mi disse in che posso servirvi signor curato permettete anzitutto che mi presenti gli porsi il mio biglietto da visita lui lo prese e lesse a mezza voce il conte de Garin siamo in undici signor amate ripresi cinque di sentinella sei installati presso uno sconosciuto questi sei sono Garin qui presente Pierre de Marchand Dvick de Ponderelli il barone d'Entreli Karl Massoligny figlio del pittore e Joseph Hebron giovane musicista vengo a loro nome e a mio nome a pregarvi di farci l'onore di cenare con noi è una cena di festa signor curato e noi vorremmo renderla un po' gaia il prete sorrideva appena mormorò mi sembra che non sia affatto il momento di divertirsi risposi ci battiamo tutti i giorni reverendo quattordici nostri camerati sono morti in un mese e tre sono caduti proprio ieri è la guerra rischiamo la vita ad ogni momento non abbiamo forse il diritto di rischiarla senza tristezza siamo francesi noi ci piace ridere sappiamo ridere dappertutto i nostri padri non ridevano forse sul patibolo questa sera vogliamo divagarci un po' da gente per bene e non da soldatacci mi capite? abbiamo torto? rispose subito avete ragione caro amico e accetto con gran piacere il vostro invito chiamò caroline una vecchia contadina con torta rugosa orribile apparve e chiese che c'è? non ceno qui stasera figliuola dove cenate dunque? coi signori ussari ebbi la tentazione di dirgli portate la vostra governante per vedere l'espressione del viso di Marsha ma non osai e ripresi fra i vostri padocchiani rimasti nel villaggio ce n'è qualcuno o qualcuna che io posso invitare? esitò cercò e dichiarò no nessuno insistetti nessuno via cercate un po' signor curato sarebbe molto galante avere delle signore me ne intendo di usanze mondane che potrei dirvi? non so il fornaio con sua moglie il droghiere il il l'orologaio il il calzolaio il il farmacista con la farmacista abbiamo un buon pranzo del vino e saremmo ben lieti di lasciare un lieto ricordo alla gente del paese il curato mi ditò a lungo poi pronunciò un risoluto no nessuno mi mise a ridere perbacco signor curato è veramente un peccato non avere una regina perché abbiamo una fava via cercate non c'è un sindaco ammogliato un consigliere municipale ammogliato un insegnante ammogliato no tutte le signore sono partite come non c'è in tutto il paese una donna borghese con il suo borghese marito ai quali si possa fare questo piacere certo sarebbe un piacere per loro è grande date le circostanze tutto a un tratto il parroco si mise a ridere ho qualcosa per voi Gesù Maria si ce l'ho ce l'ho avremo da ridere ragazzi miei avremo da ridere saranno ben contente molto contente dove alloggiate descrissi la casa per fargli capire quale fosse lui capì benissimo è la proprietà del signor Bertin Laval arriverò fra una mezz'ora con quattro signore quattro signore uscì con me sempre ridendo e nel lasciarmi ripete bene fra mezz'ora casa Bertin Laval rientrai subito molto stupito e pieno di curiosità quanti coperti mi domandò Marsha appena mi vide undici noi siamo sei ussari più il signor parroco e quattro signore rimase stupefatto io trionfavo ripeteva quattro signore hai detto quattro signore dico quattro signore vere donne vere donne ah complimenti vi accetto vi merito abbandonò la sua poltrone aprì la porta e vidi una bella tovaglia candida stesa su un lungo tavolo attorno al quale tre ussali in grembiule turchino disponevano piatti e bicchieri ci saranno delle donne gridò Marsha i tre uomini si misero a ballare applaudendo con tutta la loro forza tutto era pronto aspettavamo aspettammo quasi un'ora un odore delizioso di selvaggina arrostita fluttuava per tutta la casa un colpo battuto contro l'imposta ci fece alzare simultaneamente il capo in grosso ponderai il corse ad aprire e dopo appena un minuto una piccola suora apparve nell'inquadratura della porta magra rugosa timida salutava ripetutamente i quattro ussali smarriti nel vederla entrare dietro di lei un rumor di bastoni martellava il pavimento del vestibolo e appena essa fu entrata nella stanza scorsi una dietro l'altra tra teste di vecchia in cuffia bianca che venivano avanti oscillando in diversa guisa una pendeva a destra mentre l'altra pendeva a sinistra ed ecco tre buone donne farsi avanti zoppicando trascinando le gambe storpiate dalle malattie e deformate dalla vecchiaia tre inferme fuori servizio le tre sole ospiti capace ancora di camminare dell'ospedale diretto la suor benedetta la suora si era voltata verso le sue invalide piena di sollecitudine per loro poi vedendo i miei galloni di maresciallo d'alloggio mi disse vi ringrazio assai il signor ufficiale di aver pensato a queste povere donne esse hanno ben poche gioie dalla vita ed è per loro un grande piacere e al tempo stesso un grande onore il vostro invito scorsi il curato rimasto nell'ombra del corridoio a ridere di tutto cuore mi mise a ridere anch'io guardando negli occhi marscià poi indicando le sedie alla religiosa accomodatevi suora siamo fierissimi e lietissimi che abbiate accettato il nostro modesto invito lei prese tre seggio le appoggiate alla parete le allineò dinanzi al fuoco vi accompagnò le tre vecchie aiutandole a sedersi tolse loro i bastoni e gli scialli deponendoli da una parte poi designando la prima una magra dal ventre enorme forse in idropica ecco madre Pumel suo marito morì cadendo da un tetto e suo figlio è morto in Africa a settantadue anni poi designò la seconda una donna di alta statura cui tremava incessantemente il capo era madre Jean-Jean di sessantasette anni è quasi cieca ormai perché le fiamme le si avventarono al viso durante un incendio e ha la gamba destra rovinata dalle ustioni ci indicò infine la terza una specie di nana dagli occhi sporgenti rotondi stupidi che ruotavano di continuo e la putois una donna semplice di quarantaquattro anni solamente salutai le tre donne come se mi fossero state presentate delle altezze reali e volgendomi al parroco reverendo voi siete un uomo prezioso al quale noi tutti dobbiamo riconoscenza tutti ridevano forché Marchand che sembrava furioso sor santa benedetta è servita gridò ad un tratto Karl Massouligny dandole il braccio e la trascinai non senza fatica nella stanza vicina poiché il suo ventre gonfio sembrava più pesante del ferro il grasso ponderel sollevò mamma jean jean che gemeva per avere la sua gruccia e il piccolo Joseph Hebron accompagnò l'idiota la putois verso la sala da pranzo invasa dal profumo dei cibi allora fummo davanti ai nostri piatti la suora batte tre colpi con le mani e le donne con la precisione dei soldati che presentano le armi fecero un grande e rapido segno di croce il prete pronunciò lentamente le parole latine del benedicte si sedettero e comparvero in tavola i due polli portati da Marchand che voleva servire per non assistere da commensale a quel pasto ridicolo ma io gridai presto lo champagne un tappo saltò col fracasso di un colpo di pistola e malgrado la resistenza del parroco e della suora i tre ussari seduti accanto alle tre inferme versarono nella loro brocca i tre rispettivi bicchieri ricolmi Massolini che aveva il dono di essere sempre come in casa sua ed affiatato con tutti faceva la corte a mamma Pumel nel modo più spiritoso l'idropica che era di umore allegro nonostante le sue disgrazie gli rispondeva scherzando con una voce in falsetto che sembrava finta e rideva talmente alle facezze del suo vicino che il suo grosso ventre sembrava sempre sul punto di rotolare sulla tavola il piccolo Ebron si era messo d'impegno a ubriacare l'idiota e il barone che non aveva lo spirito molto pronto interrogava la Jean-Jean sulla vita le abitudini e i regolamenti dell'ospizio la religiosa spaventata gridava a Mussolini la farete star male non fatela ridere così ve ne prego signore oh signore poi si alzò e si gettò su Ebron per strappargli di mano un bicchiere colmo che stava per vuotare in fretta fra le labbra della putois e il parroco rideva contorcendosi e ripeteva alla suora lasciate dunque una volta tanto non farà loro male lasciate fare dopo i due polli fu servita l'anitra col contorno dei tre piccioni e del merlo poi apparve l'oca fumante e dorata spandendo un profumo caldo di carne rosolata e grassa la pommel che s'animava batte le mani la Jean-Jean cessò di rispondere alle numerose domande del barone e la putois emetteva versi di gioia metà grida e metà sospiri come fanno i bambini quando si mostrano loro dei dolci permettetemi disse il parroco che mi incarichi io dell'oca me ne intendo come pochi di simili operazioni ma certamente il signor parroco e la suora disse se si aprisse un poco la finestra queste donne hanno troppo caldo sono sicura che si ammaleranno mi rivolse a Marsha apri la finestra un momento lui aprì e l'aria fredda di fuori entrando fece oscillare le fiamme delle candele volteggiare il fumo dell'oca di cui il prete con un tovagliolo al collo sollevava le ali da intenditore esperto lo guardavamo senza parlare intenti al lavorio delle sue abili mani presi da un nuovo appetito alla vista di quella grossa oca dorata le cui membra cadevano una dopo l'altra tra la salsa scura nel piatto ed un tratto in quel silenzio ghiotto che ci teneva così attenti entrò per la finestra aperta il rumore lontano di un colpo d'arma da fuoco fu in piedi di scatto e così rapidamente che la sedia arrotolò a terra e gridai tutti a cavallo tu Marsha va a prendere due uomini e corri per notizie ti aspetto qui fra cinque minuti e mentre i cavalieri si allontanavano al galoppo nella notte mi misi in sella con gli altri due ussari davanti all'ingresso della villa e curato la suora e le tre donne sporgevano dalle finestre i loro visi spaventati non si sentiva altro se non un abbaiare di cani nella campagna la pioggia era finita faceva freddo molto freddo di lì a poco sentì di nuovo il galoppo di un cavallo di un solo cavallo che faceva ritorno no niente rispose e aggiunse François ha ferito un vecchio contadino che si rifiutava di rispondere al chi va là e continuava a venire avanti nonostante l'ordine di passare al largo lo stanno portando vedremo di che si tratta ordinai di rimettere i cavalli in scuderia e mandai due soldati incontro agli altri poi rientrai in casa allora il curato Marchand e io portammo giù un materasso per collocarvi il ferito la suora strappato un tovagliolo si mise a far filazze mentre le tre donne smarrite stavano sedute in un angolo subito distinse un rumore di sciabola trascinate sul selzato prese una candela per far luce agli uomini che stavano sopraggiungendo ed eccoli portare quella cosa inerte molle allungata e sinistra che diventa un corpo umano quando la vita più non lo anima il ferito fu deposto sul materasso preparatogli ma accorsi al primo colpo d'occhio che si trattava di un moribondo rantolava e sputava sangue che colava ai lati della bocca ad ogni singhiozzo era tutto coperto di sangue le guance la barba i capelli il colletto le vesti sembravano inzuppati quasi fossero stati immersi in un bagno rosso e questo sangue era coagulato addosso a lui era diventato scuro misto al fango orrendo a vedersi il vecchio avvolto in un ampio mantello da pastore socchiudeva a intervalli gli occhi smorti spenti inespressivi che sembravano attoniti per lo stupore erano gli occhi dell'animale che il cacciatore uccide e che per terra ai suoi piedi ormai in fin di vita lo guarda con un'espressione di sorpresa e di terrore ah è il vecchio placid esclamò il parroco il pastore dei mulini è sordo poveretto e non avrà sentito niente ah dio mio avete ammazzato questo disgraziato la suora gli aveva aperto la maglia e la camicia e guardava in mezzo al petto un piccolo foro violaceo da cui non usciva più sangue non c'è più niente da fare disse il pastore respirando affannosamente sputava sempre sangue a ogni respiro e dalla gola fino al fondo dei polmoni si sentiva un gorgoglio sinistro e continuo il parroco in piedi davanti a lui levò la mano destra fece il segno della croce e pronunciò con voce lenta e solenne le parole latine che assolvono le anime prima che avesse finito il vecchio si agitò in una breve convulsione quasi si fosse spezzato qualche cosa dentro di lui non respirava più era morto voltandomi vidi uno spettacolo più spaventevole dell'agonia di quel disgraziato le tre vecchie in piedi strette l'una all'altra orribili stravolte d'angoscia ed orrore mi avvicinai a loro ed esse si misero a lanciare grida acutissime tentando di fuggire quasi temessero che volessi ammazzarle la shanzan malferma sulla gamba ustionata cadde lunga distesa per terra suor benedetta abbandonato il morto corse verso le inferme e senza una parola per me senza nemmeno uno sguardo le ricoprì con i loro scialli dette loro i bastoni le spinse verso la porta le fece uscire e disparve con loro nella notte profonda nera capì che non era opportuno farle accompagnare da un ustaro il solo rumore d'una sciabola le avrebbe atterrite il curato guardava sempre il morto giratosi poi verso di me ah che brutta cosa disse l'uomo che brutta cosa fa la c'è la è l'uomo Grazie a tutti